salvo a tutti ragazzi e bentornati dal vostro loretec oggi parliamo di macbook air ma prima di cominciare sigla vediamo un attimo l'occorrente allora il nostro mac il set di cacciaviti io utilizzo questo di i fix it andiamo a capovolgere il nostro mac e andiamo a rimuovere tutte le viti uniamo del nostro cacciavite prendiamo la nostra torx una volta rimosse tutte le vite andiamo ad aprire facciamo leva da questa parte del pannello e andiamo a rimuovere come vedete è in condizioni praticamente pessime penso che non sia mai stato smontato qua ci sono delle ditate ok allora questo è praticamente come si presenta come prima cosa andiamo a rimuovere il connettore della batteria che si trova qua in questo modo ok allora abbiamo cambiato la punta al nostro cacciavite allora abbiamo rimosso le viti che tenevano alloggiata la batteria andiamo a rimuovere il connettore e guardate quanto sporco ok allora andiamo a pulire con nostro pennellino come vedete purtroppo la polvere adesso non ci resta fare altro che rimontarlo una volta terminato prendiamo di nuovo il nostro coperchio e lo andiamo a inserire in questo modo qua non ci basterà fra l'altro che avvitare tutte le viti e il gioco è fatto bene ragazzi questo tutorial termina qui se vi è piaciuto lasciate un bel like se non volete perdere i prossimi aggiornamenti quei prossimi video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale commentate fatemi sapere anche voi cosa ne pensate da macbook air l'oretec era tutto noi ci vediamo in un prossimo video ciao